Secretissimo, da non rivelare assolutamente mai al pubblico della poesia. Il pubblico della poesia ama la poesia perché vuole essere amato, vuole essere amato perché si ama profondamente, vuole essere rassicurato del suo profondo amore per se stesso. Per sua fortuna il pubblico della poesia crede solo di ascoltare la poesia perché se la ascoltasse veramente capirebbe la disperata impossibilità e inutilità del suo amore. E si prenderebbe a schiaffi dalla mattina alla sera, brucierebbe tutti i libri sulle piazze, si butterebbe in un canale o finirebbe i suoi tristi giorni in un convento. Conclusione, la poesia fa male, ma per nostra fortuna nessuno ci vorrà credere, mai.